Anno 2100. A causa del continuo aumento delle temperature e della grande quantità di conflitti che hanno quasi distrutto il pianeta Terra, l'Antartide è considerato l'unico posto in cui c'è la possibilità di sviluppare una nuova società. Tutti gli stati che nel passato dunque hanno rivendicato o si sono proposte per rivendicare un territorio nel continente antartico hanno ottenuto il permesso delle Nazioni Unite per raggiungere il territorio e fondare delle nuove città. Tuttavia le tensioni tra tutti i paesi rimangono altissime e quindi la guerra sarà inevitabile. Chi riuscirà a conquistare l'Antartide? Io sono Alex Warboxer e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Salve popolo di YouTube, come avete visto dall'introduzione oggi ci troviamo in Antartide e vedremo chi andrà a conquistare il continente antartico. Gli stati partecipanti a questa guerra sono ben 14. Come potete vedere c'è anche l'Italia che effettivamente rientra nella lista di quei paesi che hanno richiesto di rivendicare un territorio ma per ora è ancora in sospeso come per metà degli stati presenti in questa guerra. Detto ciò io direi di far partire il tempo e vediamo chi andrà a conquistare l'Antartide. Come prima cosa vediamo innanzitutto che lo spazio sulle coste è stato occupato praticamente tutto quindi per espandersi bisogna per forza andare nell'entroterra e per ora nessuno ha ancora mosso i primi passi verso l'interno. Ed ecco fondate le prime colonie avanzano Regno Unito, Argentina, Spagna e Norvegia. Avanzano anche gli Stati Uniti che ovviamente non vogliono perdere troppo terreno. Avanza anche il Brasile verso il centro Italia che per ora non ha ancora mandato nessuno. Lo spazio sta rimanendo sempre di meno. Ovviamente se non si colonizza si rischia poi di rimanere senza territori. Avanza anche la Nuova Zelanda. Segue il Sudafrica. Spazio che sta diminuendo sempre di più. La Russia occupa un altro territorio. Ora rimane solo questo piccolo spazio al centro centro. Vediamo se qualcuno si muoverà per conquistarlo prima che si espannano troppo gli altri stati. E avanzano dei coloni del Perù che decidono quindi di occupare l'ultimo territorio rimasto. Intanto abbiamo subito Cile, Italia, Spagna e Stati Uniti e adesso anche Norvegia che stanno pianificando le prime guerre. Si aggiunge anche l'Australia insomma. Sono tutti subito partiti sul piede di guerra. E il primo è proprio il Cile che dichiara guerra al vicino Perù e conquista subito il primo territorio sul mare. Perù che però ha ancora la colonia interna. Italia che invece dichiara guerra alla Russia per provare a prendere subito un po' di spazio che non è stato garantito all'inizio. Intanto Spagna che dichiara guerra al Sudafrica. Stati Uniti che anche loro dichiarano guerra al Perù. Australia dichiara guerra alla Francia. Norvegia che inizia a invadere i territori del Regno Unito. Italia che sta venendo invasa dopo il primo attacco è stata subito distrutta. Sudafrica che è riuscito con successo ad assorbire la Spagna. E ora Argentina che ha dichiarato guerra agli Stati Uniti. Esercito argentino che dimostra subito una grande potenza e conquista un territorio. Mentre l'Australia distrugge la Francia e la Norvegia ha distrutto il Regno Unito. Bene ora diciamo che è passata un attimo la confusione iniziale. Cominciamo ad avere degli stati un po' più formati. Intanto si sta svolgendo dei conflitti più combattuti del momento. Ovvero quello tra Argentina e Stati Uniti. Anche se sembra che l'esercito argentino abbia effettivamente sconfitto con lo Stato Unitense o meglio l'ha ridotta ai minimi termini. Tuttavia adesso Nuova Zelanda che dichiara guerra al Sudafrica e Brasile che sta pianificando una guerra e dichiara guerra appunto agli Stati Uniti che però stanno venendo ufficialmente conquistati dall'Argentina e per ora insieme al Sudafrica ha il territorio più grande. Tuttavia però il Sudafrica sta venendo attaccato dalla Nuova Zelanda quindi vediamo come andrà a finire. Va a finire che l'esercito sudafricano ha distrutto l'esercito neozelandese. Quindi ora al Sudafrica possiamo dire che al territorio più grande di tutti sembrerebbe conta ben 6 insediamenti mentre l'Argentina ne conta 5 e la Norvegia segue con 4. Vediamo da Sud Australia che sta pianificando una guerra così come la Norvegia da Nord a Norvegia che giustamente decide di spingersi ad attaccare il Brasile che conta solo due insediamenti e un esercito abbastanza ridotto. Esercito brasiliano che riesce a conquistare un territorio no ne perde uno. Ora è rimasto solo con un territorio anzi ora è riuscito a conquistare quello che era rimasto incompleto. Intanto Australia che si mette contro la grande potenza sudafricana e anche la Russia adesso sta pianificando una nuova guerra. Esercito brasiliano che combatte per la libertà mentre l'esercito norvegese spinge a conquistare gli ultimi territori brasiliani e la Russia decide di unirsi proprio contro il Brasile vista la grande difficoltà dei sudamericani ma continua lo scontro tra Australia e Sudafrica molto combattuto continuano a conquistarsi i territori a vicenda 3 rimasti al Sudafrica no scusate 3 rimasti all'Australia e 5 per il Sudafrica. Brasile che sta venendo conquistato completamente dalla Norvegia intanto adesso l'Argentina ha deciso di dichiarare guerra alla Russia. Brasile che sta venendo invaso dalle ultime armate russe e norvecese anche se ormai quelle russe sono impegnate contro l'Argentina in realtà la Norvegia è rimasta senza esercito quindi ho detto una bugia pochissimi soldati rimasti e sono tutti concentrati al nord quindi per ora il Brasile prova a riconquistarsi lentamente qualche territorio senza successo mentre l'Australia viene schiacciata al suo territorio di partenza ma prova a rispondere e non è abbastanza però Australia che viene sconfitta o meglio esercito australiano che viene sconfitto ma Sudafrica che non ha ancora conquistato il territorio finale e ora rimedia immediatamente. Sono state sconfitte diciamo le grandi potenze che ci si aspettava all'inizio e vediamo un finale tra Norvegia Sudafrica Argentina e Cile dove il Cile è rimasto abbastanza tranquillo fino ad adesso ha solo cominciato con la prima guerra ma poi non ha più fatto praticamente niente ed è rimasto lì ora circondato però dall'Argentina che è sicuramente una delle potenze una delle tre potenze dominanti di questo Antartide che per ora sembra funzionare così in pace anzi no ecco che l'Argentina pianifica una guerra e sono abbastanza sicuro che andranno ad appropriarsi del territorio cileno vista la comodità e la scarsità dell'esercito o meglio più che scarsità dell'esercito per la superiorità del loro esercito e invece no Argentina che dichiara guerra al Sudafrica una mossa inaspettatissima vista la potenza di entrambi gli stati ma vediamo ora la Norvegia perché sta pianificando una guerra vediamo contro chi si unirà a meno che decida di andare ad attaccare il Cile ma probabilmente andrà ad attaccare uno dei due stati adesso in guerra Sudafrica che sta venendo schiacciato e Norvegia che dichiara guerra proprio al Sudafrica e però ormai sta venendo già invaso dall'Argentina Norvegia che è riuscita ad appropriarsi comunque di un territorio ma adesso la dominanza dell'Argentina è netta ed è assolutamente la grande favorita per vincere questa guerra tuttavia sappiamo che le sorprese possono essere sempre all'ordine del giorno andiamo a mandare un po' veloce vediamo se qualcuno dichiarerà guerra adesso ed è proprio l'Argentina chiaramente a pianificare vedremo se dichiareranno guerra al piccolo Cile o se invaderanno la Norvegia infatti dichiarano guerra al Cile quello che avrebbero dovuto fare prima non che dichiarare guerra al Sudafrica sia stata la scelta sbagliata anzi strategicamente gli sarebbe venuto più facile avendo due territori in più eppure in questo caso hanno dimostrato ancora una volta la grande superiorità che hanno e adesso ci prepariamo al grande scontro tra Argentina e Norvegia dove l'Argentina chiaramente ha un esercito doppio rispetto ai norvegesi per cui direi che possiamo andare a mandare veloce comincia la guerra vediamo subito sia Norvegia che Argentina che invadono i territori esercito norvegese che ha provato a conquistare diversi territori ma ha ricevuto una grande risposta dall'esercito dei sudamericani possiamo vedere ora che la Norvegia è rimasta con solamente pochissimi insediamenti e diciamo che la guerra può terminare qua Argentina che partendo senza i favori del caso ha distrutto tutti gli avversari era uscita ad appropriarsi dell'Antartide detto ciò io vi ringrazio per essere stati con me se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare like commentare ed iscrivervi al canale io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video ciao